Hilal Altimbek a Verissimo da Silvia Toffanin. Lasciate che vi svegli un segreto, l'eroina moderna della serie turca Terra Amara sta per sbarcare in Italia. Sì, avete capito bene, la bellissima attrice Hilal, che interpreta la dolce e coraggiosa Zulela, sarà ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. E chissà quali segreti ci svelerà durante l'intervista. Ma non è solo la sua bellezza ad aver conquistato il pubblico italiano, bensì anche il suo talento e la sua forza d'animo. Zulela è diventata l'eroina dei nostri tempi, combattendo contro tutte le avversità per difendere i suoi figli e il suo amore. E ora in anteprima nazionale avremo la possibilità di scoprire tutti retroscena dietro le quinte di Terra Amara. Ma non è tutto. Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che Zulela dovrà lottare ancora di più, poiché sarà vittima della crudeltà di Demir e costretta a lottare con tutte le sue forze per riavere i suoi bambini. E noi saremo lì ad aspettarla, pronti ad applaudire la sua forza ed anche il suo coraggio. Quindi segnatevi la data. Domenica 7 maggio su Canale 5 Verissimo ospiterà una delle star più amate della televisione turca. E se volete scoprire di più sulla vita privata dell'attrice non perdete l'intervista in cui si rilascerà andare a certe confessioni intime sulla sua carriera e anche sulla sua vita personale. Insomma, un appuntamento da non perdere per tutti i fan di Terra Amara e soprattutto di Hilal Halti Black, che potranno seguirla anche sul suo profilo Instagram ufficiale, seguito da oltre un milione di persone. Ma ricordatevi sempre di regalarmi il vostro like e di iscrivervi al canale per tutte le altre news.